Cari fratelli e sorelle, saluto cordialmente tutti voi che partecipate alla 49esima settimana sociale dei Cattolici Italiani che si apre oggi a Taranto. In queste giornate rifletterete su un tema molto importante che riguarda il futuro nostro e delle generazioni future, il pianeta che speriamo. Questo pianeta che speriamo esige soprattutto una conversione che apra la speranza il pianeta che speriamo chiede al tempo stesso audacia e voglia di riscatto, il pianeta che speriamo grida già sin d'ora stili di vita rinnovati in cui ambiente, lavoro e futuro non siano in contraposizione tra loro ma in piena armonia. Non bisogna mai dimenticare che tutto è connesso. Un pensiero particolare e un incoraggiamento vorrei rivolgere ai giovani che so essere ben rappresentati a questo evento. Insegnateci a custodire il creato. Siete il presente, siete l'oggi del pianeta. Non sentitevi mai ai margini dei progetti o delle riflessioni. I vostri sogni devono essere i sogni di tutti e sull'ambiente avete tanto da insegnare. Permettetemi una carezza a tutte le mamme e a tutti i papà di Taranto che hanno pianto o piangono per la morte e la sofferenza dei propri figli. Vi abbraccio e vi assicuro la mia preghiera. E pregate per me. Io lo farò per voi. Che il Signore benedica.